Il crescente numero di cinghiali in Italia sta diventando un problema sempre più grande per l'agricoltura. Mentre sui giornali e sulle reti social circolano spesso video di cinghiali che si aggirano per le strade e i centri abitati dei territori. Nel mese di luglio una nuova mobilitazione degli agricoltori italiani ha chiesto misure urgenti. I cinghiali in aumento portano a un danno sempre maggiore alle colture richiedendo misure di contenimento costose. L'aumento del numero di cinghiali in un ambiente da molto tempo antropizzato e profondamente modificato dalle attività umane pone anche un problema di biodiversità. Un problema serio però che, precisiamolo, riguarda tutto il paese, riguarda l'Italia. Vediamo le immagini a Roma, a Genova, in ogni regione. È purtroppo un'emergenza nazionale. Questo lo sottolineo sempre perché non è un problema che riguarda solo il nostro territorio. Per quanto riguarda il nostro territorio voglio dire che proprio il Parco Nazionale di Cilento Valente del Burni in questi anni ha cercato di fare tutto ciò che è possibile e continuiamo a farlo. Noi abbiamo 300 selecontrollori e stiamo facendo un nuovo corso per fare altri 150 selecontrollori sul territorio. Abbiamo realizzato anche, siamo partiti anche con la filiera delle carni di cinghiale perché oggi la carne di cinghiale possa diventare anche un'opportunità per il territorio. Infatti abbiamo fatto una gara con l'affidamento a una società che cura la commercializzazione delle carne di cinghiale. Stanno partendo i cinque centri di sosta per i cinghiali. Abbiamo fatto un finanziamento di 300 mila euro per quanto riguarda le recensioni soprattutto dedicate a quelli agricoltori che hanno avuto i maggiori danni da cinghiale e quindi abbiamo dato una priorità a chi ha avuto più danni da cinghiale. Voglio ricordare un dato, c'è un quattimenti selettivi in un anno e mezzo che è un numero importante, un numero significativo. Devo dire veramente lo sforzo è massimo. Stiamo cercando in tutti i modi di mettere in campo tutto quello che è possibile per cercare di dare delle risposte concrete agli agricoltori che sono in grande sofferenza.